azzurri non c'entra la porta Capone era in offside, si leva anche alto il coro Italia Italia, siamo al 19esimo secondo tempo e taglia avanti di un gol grazie a Capone che fa su un altro giocatore nel secondo tempo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti